Ecco, vediamo un po' questa Seles a scartamento ridotto Ridotto ma? No, no, ma poteva arrivare molto avanti, mi sono sbagliato un'altra volta nel pronosticarla Brenda Schulz, sorprendente 40 Beh, concita anche perché pare che ci sia un momento difficile ma ne parleremo dopo Sì, ma loro erano organizzati, i nostri erano I nostri stavano approfondendo Armata Brancaleone, poeri ragazzi, vengono qui molti senza aiuti Se si pensa che quel Martelli che bene o male ha passato un turno qui Stava smettendo per fare Uomini e nove donne nei tabelloni principali Noi otto, 18-8, questo è il rapporto tra la Francia e l'Italia Sì, ma il rapporto di vittorie e sconfitte è ancora più grave L'attrice in grado di palleggiare Breck 2-0 Seles Alleviarle degli spasmi lombosacrali Poi le hanno messo dei cerottoni, ha continuato a giocare mezza Beh, brava la testù Ha fatto due o tre cose Tre palle Breck contro Monica Seles Occasione mancata dalla Seles Senza la Graff di poter vincere Wimbledon Poi magari va fuori dalla testù Out 40 pari da Ok, Miss Seles Baglia ancora di rovesse 0-30 15-40 Comportamento di Monica La rete è più bassa Questa è una bella anticipazione Ecco la Seles che viene finalmente avanti Fondi Questa è un... Ha avuto fortuna Perché il nastro Ha ingrassata, sarà lenta, meno sicura, tutto quel che volete A segno con il rovesse Sì Sì Set point Seles E insiste in questa sua tentazione Perde il controllo del rovescio La testù 6-0 Seles E' buona Game Seles 7-0 Gribovska La Bazuki 4-2 sulla Kijimuta La Vento 4-2 sulla Maleva La Zrubakova 6-5 sulla Chladkova Ecco qui si sa... Ah, era... Buona variante Rovescio vincente Game Mr. Stu Finalmente la testù riesce Chiamato in ritardo Game Mr. Stu E quindi il doppio fallo della Seles Di tiri di pochissimo Cioè non... Non era di Sampras Però 3-1 testù Vediamo come se la cava Se la cava proprio male Ha visto molto prima Sì, è partita, bravo Seles Amicurato Questi lunghi anni di attesa di un rientro Game Seles Norval Roode è un inglese di origine sudafricane Ha giocato in Davis per la Gran Bretagna E 15-30 Ottima accelerazione di rovescio Sponda alla fine la Seles doppio femminile contro la paz e l'ascido ed è quattro a due testi sbaglia un'accelerazione per lei abbastanza e beh insomma Brandi che era stato imposto da Piatti e Leitgepp a Panatta in squadra per il dottore di Paolina Borghese del Canova somiglia moltissimo è una tenista molto promettente tra l'altro è nera, è alta poi soprattutto c'è stata una campagna mediatica fatta da un genio l'erotismo è immaginazione ma insomma adesso torniamo qui alla Monica a me fa un po' pena la Monica perché proprio non è più lei quel bastardo che le ha dato la coltellata è in giro, sereno, a spasso la cena da Seles game is test two e iso, della test two spesso il ruote non arri... Sì game is Seles Seles tiene servizio ma certe volte mi pare che sbagli un po' tattica sì sì beh è brava sa fare è arrivata proprio male le poveri aveva diviso il match in due frazioni in due partite due frazioni paura di vincere ma beh ormai voglio dire ma in un certo modo cioè le sue avversarie prima nadano in campo terrorizzate del 6-0 del doppio 6-0 invece splendidi game is Seles qua qua insomma da grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 3 love leads Open up the court not wide Game is test 2 2 points later she's another one That's good Game is test 2 That's a good serve as well Monica's selest now She starts off well again non è in denial at all so it is an easy hole for Sandrine Test 2 just got it in there well she got up to that ball gave up the short ball Martina find a way to get yourself out of trouble set nei confronti della francese Sandrine Test 2 tanto Woodbridge conduce 2-7-0 6-4-6-4 si apre bene il campo e chiude con il no way no way you can't offer him to that love that you can't like e non ci arriva 15-42 assegno con il dritto la Test 2 nel torneo palla corta vincente 40-15 una buona prima centrale forse sembra la fatica e la preoccupazione molto brava dal centro vede pari servita molto bene serve un artista dolce insomma non accanita 15-0 30-0 e lasciano quindi campo al centro bella oh papà ragazzi forse un po' affrettata però e se forse oltre le sue ecco che comincia a faticare la Seles 40-15 oh ragazza mia che cosa hai è brava sì brava e un po' incauta la Test 2 perché insomma nell'angolo quando giochi una palla lì nell'angolo la Seles lei ha dato l'attacco in controtempo su questa palla ha battuto molto bene Sandrine brava è lunga è lunga eh beh questa volta miracolo però sì ma lo sapeva bravissima perché era in grossa difficoltà era fuori dai a signora Seles sempre più fievole il gemito della Test 2 baglia alla fine è lungo il colpo della seles 15 0 questo era quasi un altro e 30 da sbagliare per questa questa se la poteva ci chiude con un esce dal torneo la testa di serie numero 2 monica selez